salumi bilancia che questa macelleria è nata 30 anni fa a potenza dove producono anche la salsiccia lucanica quindi a grande richiesta di questa salsiccia è nata l'idea di questo salumificio dove vi faccio vedere che cosa mi ha inviato allora partiamo qui da questa pancetta lucana tesa poi qui abbiamo la salsiccia catenella piccante poi qui abbiamo la pancetta arrotolata piccante e qui infine abbiamo la salsiccia stagionale extra dolce eccola qua allora io vi invito a cliccare sul link qui sotto per poter vedere lo shop online quindi vedere tutti i tipi di salumi e niente quindi ringrazio ancora l'azienda salumi bilancia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti